Maria Lucia Revisoree Mamma, comunque la finale, se vi dispiace, se non vi dispiace mi metto qua che vedo meno persone, ok? Vi chiedo però di fare un esercizio. Chiudete gli occhi e immaginate una casa e dentro c'è un animale. Praticamente, aprite gli occhi, ne ho approfittato per alzarmi. Quanti di voi hanno immaginato un uccellino? E immaginavo, forse avete pensato a un gatto o a un cane, no? Bene, siete stati vittime di un bias cognitivo, c'è una distorsione del pensiero critico che il nostro cervello fa in assoluta autonomia. Praticamente, quando noi veniamo esposti ad un evento esterno, il nostro cervello lo definisce in base a dei parametri che conosce già. Sostanzialmente si autoconferma. Quando al contrario è esposto ad un evento non proprio normale, questo risponde attivando principalmente l'amigdala, che è la parte più antica del nostro cervello, la quale attiva una serie di funzioni che si completano con la produzione di ormoni dello stress. E proprio questi ormoni fanno tendere il cervello piuttosto a dato confermarsi che a rinnegarsi. Bene, in realtà questa scorciatoia cognitiva che ha il cervello lo ha aiutato a risparmiare tempo ed energie. E questa è stata una strategia molto utile quando avevamo bisogno di capire molto velocemente se un animale era pericoloso oppure se un rifugio era valido. Bene, i bias cognitivi sono stati studiati per tanto tempo dalle neuroscienze e alcune ricerche sono state anche sfruttate dalla pubblicità, per esempio, o dai truffatori o anche dai venditori. In realtà ci giocano dei brutti scherzi anche quando dobbiamo prendere un giudizio riguardo a una cosa o una persona che conosciamo poco. Ma quindi cosa significa? Che non abbiamo una vera libera scelta? Capacità di giudizio? Perché in realtà prima o poi tutti cadiamo in un bias cognitivo, ma tranquilli perché abbiamo due strumenti. Il primo è sapere che esistono, perché conoscere significa riconoscere. Il secondo sta nel nostro cervello ed è la corteccia prefrontale, che invece è la parte più evoluta del cervello e che può rispondere all'amigdala. E soprattutto quello che ci viene incontro è che ama i cambi di prospettiva. E da qui io in effetti vi vedo meglio e paradossalmente ho meno paura che quando ero seduta. E quindi è importante visualizzare delle immagini differenti. Ad esempio il nostro collega ci sta criticando o ci vuole aiutare. Questa cosa non la so fare o non l'ho mai fatta? E quindi vorrei concludere chiudendo di nuovo gli occhi tutti insieme e immaginando di nuovo questa casa con questo animale. Ma scusate, ma solo io sento un pollo? Il pollo ha cantato! Grazie! 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 Grazie!